Un abito sartoriale, una cena in uno stellato, oppure una notte passata a dormire nel deserto sotto una cupola trasparente. Ci sono esperienze nella vita che per quanto non siano necessarie, rendono le nostre giornate più appaganti e decisamente più belle. Per esempio, mangiare è uno dei nostri bisogni primari, ma la cucina che troveremo in una trattoria a vecchia scuola e quella di uno chef stellato saranno in grado di regalarci emozioni e sensazioni molto diverse. Sia chiaro, non è che uno sia migliore dell'altro in assoluto e sempre. Nella mia vita capita più spesso che abbia voglia di panino con la salamella piuttosto che di piatti ricercati e arzigogolati. Ma di tutti i panini che ho mangiato me ne ricordo forse due, tre. Mentre se penso alle cene più raffinate potrei descrivervi piatto per piatto, boccone dopo boccone, tutta la mia esperienza gastronomica. Se devo fare un paragone con la profumeria, il ristorante stellato è senza ombra di dubbio la profumeria artistica. Qui si sperimentano nuovi odori, nuove combinazioni olfattive, ci si lascia guidare dall'ispirazione artistica più che da un business plan e soprattutto lo scopo non è tanto la bontà o la qualità del prodotto, quella la diamo per scontata, quanto piuttosto la reazione, l'emozione e l'interesse che questa fragranza può dare. Come dice Jean-Claude Lenat, oggi non esistono odori buoni o odori cattivi. Come gli chef più stellati al mondo cucinano con pigne, plankton ed azoto, così anche la profumeria artistica non si accontenta di usare gelsomino, limone e rosa, ma sperimenta arrivando fino a creare odori dal nulla. In questo video cercherò di raccontarvi alcuni dei profumi di nicchia che bisogna sentire almeno una volta nella vita. Per originalità, per ispirazione romantica, per vicinanza alla natura, per il loro essere stravaganti o semplicemente perché hanno scritto o stanno scrivendo la storia di questo settore. Ne ho scelti tanti, 10 sono tanti, per soddisfare tutte le diverse sfaccettature di pubblico, ma se avessi dimenticato qualche fragranza che deve essere presente in questa lista, fatemelo sapere nei commenti così che possa fare un altro video e ovviare alle mie mancanze. Perché oltre a presentarvi fragranze nuove e sconosciute, o anche fragranze conosciute in modo nuovo, lo scopo di questo canale è il confronto e il dialogo con tutti gli appassionati di fragranza. Se anche tu sei fra questi, iscriviti al canale e se non vuoi perdere nemmeno un video, ricordati di attivare la campanellina. Bene, iniziamo anche perché 10 profumi sono tanti e ci sono tante, forse troppe cose da dire. Al primo posto, la regina delle vaniglie, Vanille West Indies di Saint-Barth. Di questo profumo bisogna dire poche cose, due bastano. La prima è che è un estratto, quindi è molto oleoso e molto persistente. La seconda è che è più importante, è che se siete alla ricerca di un profumo che vi faccia sapere di torta, o meglio ancora, del lievito vanigliato che si usa per le torte, siete arrivati al traguardo. Perché qui la vanillina la fa da padrone. Dimenticatevi delle vaniglie non dolci, legnose e molto in voga oggi. Con la vaniglia di Saint-Barth avrete un'aura profumata che a me ricorda il vecchio budino alla vaniglia della centrale del latte, quello nella confezione di tetrapac rettangolare che tanto amavo da bambino. Al secondo posto, subito una novità. Chi l'ha detto che i profumi devono avere per forza l'alcol? Beh, tre secoli di storia della profumeria direte voi. E invece, Hermetica non ci sta e nel 2018 lancia la sua linea di fragranze prive di alcol ma comunque persistenti. Grazie a lei. La Source. Un mix di note di sintesi e di oli naturali che incollano il profumo sulla pelle e lo rendono duraturo senza mai essere invadente. Scegliete Hermetica se l'alcol vi dà irritazioni, se i profumi più tradizionali vi fanno venire mal di testa o semplicemente se volete provare qualcosa che fino a due, tre anni fa non era forse nemmeno ipotizzabile. Al terzo posto ho scelto la Tulip di Bairedo che assolutamente non è il top seller né la fragranza più chiacchierata, ma ve ne voglio parlare per spiegarvi la ricerca quasi esasperata che c'è dietro un profumo. Se avete mai odorato un tulipano obbiettereste infatti che questi non hanno odore, giustissimo, ma ciò non ha fermato il naso creatore che ha ricreato la sensazione del tulipano utilizzandone il gambo, verde e con un odore molto linfatico, accordato ad una nota di rabarbaro che gli dona quell'aura di acidità, di frutta mi verrebbe da dire, tipica dei fiori ma che assente le note verdi del gambo. Il risultato è una fragranza angelica, color verde chiaro, che ormai lo dico da anni, è perfetta su una ragazza o su una donna che non è capace di non sorridere. Visto che siamo in mood romantico e siccome le ispirazioni che ci sono dietro ai profumi a volte sono anche più belle dei profumi stessi, la quarta fragranza di cui vi andrò a parlare è di Arpolli di Wilhelm. Senza nulla togliere al profumo che è meravigliosamente buono, raffinatissimo e di un'eleganza spettacolare, grazie a queste note di mela, tè nero, muschio di quercia, la storia che c'è dietro vi strapperà una lacrima. Il creatore di Wilhelm infatti dedica questo profumo a sua moglie, lontana per il lavoro, e sceglie uno dei momenti più intimi fra loro due, ossia la colazione, con il tè nero, ora piccante ma allo stesso tempo mieloso, che la moglie degusta ogni mattina e condivide con lui. Il risultato è una fragranza che può essere usata sia da Ian che dalla moglie, si dice due cuori e una capanna, in questo caso due cuori è una fragranza. La quinta posizione è invece riservata ad un grande classico, il paciuli. L'olio di paciuli, forte, balsamico, dal sapore di hummus e di libertà, oggi non è più di moda, per cui tante case hanno cercato di rivisitare questo ingrediente tanto celebre in passato, ed uno che vi consiglio di provare, specie se non siete dei grandi amanti del genere, è paciuli nosibè. Normalmente il paciuli arriva dall'India, dall'Indonesia, mentre nosibè si trova nella costa nord-occidentale del Madagascar. L'isola è quasi interamente votata alla coltivazione di langilang, ma quasi per gioco si è iniziato a coltivare anche il paciuli. E come il terreno incide enormemente sulla produzione di un vino, anche qui il terreno incide sull'olio essenziale di paciuli, che guadagna nuance più fiorite e più vanigliate. Paris prende questo ingrediente più unico che raro e con un pizzico di vaniglia, due note di legni secchi e del cacao, da vita ad un paciuli che cambierà il vostro modo di concepire questo ingrediente. Torniamo su terre a noi più conosciute e andiamo avanti con il nostro sesto concorrente, Ili Cardinal, o come piace dire a me, benvenuti in confessionale. Scherzi a parte, si tratta di un incenso di un'eleganza abissale, non invadente, se vaporizzato con senno, ma decisamente un must have per gli amanti delle note incensate. Il lino lo rende quasi pulito, ma la mirra gli dà quella rotondità che ci trasporta di getto in una cattedrale. La cosa più chic che posso dirvi di Cardinal è la storia di questa persona che lo usava per profumarsi la biancheria. Perché in fondo, come sono un po' pazzi e un po' fuori di testa quelli che fanno questo genere di fragranze, non possono essere troppo normali, nemmeno quelli che le utilizzano. Ma la profumeria artistica, come detto, certe volte vuole raccontare la natura, o per dirla in modo più fine, desidera dipingere pitture olfattive. E fra tutti i marchi c'è una casa che è testa e spalle sopra le altre. Artisan parfumere. Vi dico solo che la loro storia inizia quasi mezzo secolo fa, con il naso creatore del marchio, Jean Laporte, che si dilettava a fare i profumi estraendo gli oli essenziali del sedano. E ho detto tutto. Tutt'oggi però, Artisan è una realtà che tiene ancora fede agli insegnamenti del suo fondatore. E la fragranza che più di tutte racconta un panorama olfattivo è senza discussione per i miei fighe. Il primo profumo al sentore di fico, creato da Olivia Giacobetti nel 1994. 1994. L'immagine è chiara, lampante. Siamo in Calabria. E nella mia esperienza personale siamo a Motticella, poco sopra Reggio. Siamo a luglio, dopo pranzo. La terra è secca, l'aria di più. E il sole ci brucia anche quella parte di corpo che teniamo nascosta con quei pochi vestiti che indossiamo. All'improvviso un albero di fico, con la sua ombra, a ristorare il nostro animo stanco. Ci sediamo, appoggiamo le spalle all'albero e iniziamo a percepire quasi un sentore dolciastro esalare dal terreno. Ma percepiamo anche le foglie di questo grande albero, i cui frutti sono quasi pronti ad essere colti. Ecco, prendete questo racconto, questa immagine quasi bucolica e mettetelo in una boccetta. Il risultato si chiama Premi e Fighè. Tutto, e dico tutto quello che sa di fico, ha questa creazione senza tempo, come modello da imitare. Senza tempo, più di ogni altro profumo, è la fragranza che ha cambiato il concetto di profumarsi nel ventesimo secolo. Creato nel 1902, ripeto, 1902, per celebrare il Duca di Malboro, la fragranza fresca ed elegante per eccellenza, Blenheim Bouquet. Un'unione di limone, lavanda e pepe nero adagiata morbidamente su una struttura portante di legni asciutti. Lo usava Winston Churchill, lo usava Tom Ford, lo usava chiunque avesse gusto. Se non l'avete mai sentito, vi sembrerà quasi scontato, ma ricordatevi che il vostro bis bisnonno avrebbe potuto indossarlo. Se tutto ciò non vi bastasse, altri due chicchette. Una sul marchio, Penaligons, una sulla fragranza. Per Penaligons, 150 anni di storia e due patenti ufficiali della corona inglese, direi che sono elementi sufficienti per fidarsi. Per Blenheim, vi basti pensare che è uno dei capolavori più celebri di sempre della profumeria, come Eau Sauvage di Dior, ha largamente preso spunto da questa fragranza, che ha la sensazione di fresco di una colonia, ma anche una durata e un sillage da fare invidia a tanti eau de parfum presenti sul mercato. Vi ho appena raccontato di un profumo che ha scritto la storia di chi è venuto prima di noi, per cui adesso è doveroso parlare della fragranza artistica, o meglio delle due fragranze artistiche, che più hanno segnato l'ultima decada. In realtà, su entrambe è già stato detto tanto da tanti, e anche in parte da me, ma per quei due o tre che non ne hanno mai sentito parlare, ecco giusto due pilloline. La prima, scontatissima, è Crida Ventus. Dall'immagine di Alessandro Magno sulla bottiglia, capiamo che è un profumo pensato per l'uomo. Si distacca dal maschio in giacca e cravatta. L'uomo Ventus è più sportivo, frizzante, energico, giovanile. Per dieci anni le ragazze e le donne di ogni paese inseguivano la scena e brillante di questa fragranza, e obbligavano i propri uomini a comprarla. Perché è una fragranza che grida, saltami addosso, che si fa notare fra punte di frutta tropicale nelle note di testa, e sfaccettature più decise di cuoio e d'ambra nelle ore successive. Siamo davanti a un successo tale che ormai ci si è allontanati dal mondo delle fragranze di micchia, perché la domanda è troppo alta, troppo elevata, e la produzione artigianale non è più sostenibile. Aggiungeteci poi che, visto il prezzo molto elevato, è diventato una sorta di status symbol per una parte di pubblico, e si capisce perché, il ventunesimo secolo. Alla scena di Aventus. Accanto a lui, iniziava ad emergere un altro grande gigante, il cui successo non ha nulla a che vedere con le dinamiche della profumeria artistica. Se vi dicessi che si tratta di un profumo che porta al nome di una droga, odora di hashish, è una durata, per cui uno spruzzo si avvingia la nostra pelle e non ci lascia per giorni, mi prendereste per matto. Ma invece matto, o meglio, naso matto, al secolo, Alessandro Gualtieri, è colui che ha creato Black Afgano, il decimo ed ultimo profumo della nostra lista. Piramide nascosta per anni e tutt'oggi comunicata solo in parte, note dichiaratamente finte, associate ad uno degli ingredienti più chiacchierati degli ultimi anni, e anche più costosi, che è l'Hood. Un profumo del quale si capisce la preziosità solo osservando l'unico formato acquistabile, un 30 ml. Insomma, un elisir. Con queste dieci fragranze vi ho lanciato degli spunti per lasciarvi intuire quanto ogni fragranza sia in grado ora di raccontarci un luogo, ora una persona, ora di sorprenderci con qualcosa di totalmente nuovo e mai sentito. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un commento qui sotto. Buona serata a tutti, ci vediamo nel prossimo video.